Musica Sanità a polla, interventi presso il reparto di gastroenterologia, lavori in tutti i reparti, l'associazione Sani prosegue con il servizio uno specialista per te. Assente il segno, resta sospeso il mercato settimanale, si cambia al fianco degli ambulanti. Buon abitacolo, sì al canile comprensoriale, no allo scioglimento del consorzio di bacino Salerno 3. Salerno furto nell'abitazione di un'anziana arrestata alla badante ritenuta responsabile. A causa del Covid-19 quest'anno non ci sarà alcuna vacanza del sorriso. Buongiorno, ben trovati con l'appuntamento con l'informazione di Uno News. Parliamo di sanità presso l'ospedale Luigi Curto. In corso lavori di adeguamento per consentire la ripresa delle attività ambulatoriali in tutti i reparti. Attività che potranno essere riaperte solo assicurando determinate disposizioni e regolamenti di sicurezza anticontagio. Come sta accadendo per il reparto di gastroenterologia che a seguito verifiche dei tecnici dell'ASL sono stati disposti alcuni interventi per la cui realizzazione si è reso necessaria la chiusura di una parte del reparto stesso. Ciò però non interesserà solo il reparto di gastroenterologia ma anche altri reparti su cui si sta lavorando. Ecco perché l'Associazione Sani ha deciso di proseguire il suo servizio di assistenza gratuito specialistico Uno Specialista per Te. Vediamo. In attesa della creazione dei percorsi specifici riservati alle attività ambulatoriali resta attivo il servizio di consulenza gratuita messo in campo dall'Associazione Sani avvalendosi di numerosi medici specialisti e denominato Uno Specialista per Te. Diversi reparti tra cui anche il reparto di gastroenterologia in queste settimane sono interessati da verifiche e lavori di adeguamento per consentire lo svolgimento delle attività ambulatoriali. Ciò impone inevitabilmente una riduzione degli spazi al servizio delle stesse unità operative che come accade per il reparto diretto dal dottor Riccardo Marmo vede un'area chiusa temporaneamente per consentire l'installazione di cappe di aspirazione garantendo però le prestazioni sui casi urgenti. Un problema che interessa diversi reparti che dovranno adeguarsi alla normativa vigente per poter riattivare i servizi di visita ambulatoriale. Potrebbero quindi proseguire le difficoltà ad accedere alle visite ambulatoriali ed ecco che in soccorso ai pazienti resta attivo ancora per tutto il mese di giugno il servizio ideato dall'Associazione Sani preseduta dal dottor Riccardo Marmo. In questi mesi di chiusura e di limitazioni è partito lo scorso mese di aprile il servizio denominato uno specialista per te. L'idea si è sviluppata durante la fase di maggiore diffusione del virus quando peraltro diversi comuni del Vallo di Diano erano stati individuati come zona rossa e ad alto rischio contagio visti i numeri di pazienti positivi al covid individuati. Considerata l'impossibilità a spostarsi senza validi e certificate ragioni ed in considerazione dello stop imposto alle attività ambulatoriali, il dottor Marmo, responsabile del reparto di gastroenterologia del Luigi Curto, con la sua associazione, ha attivato il servizio a cui hanno aderito 13 medici specialisti ed una biologa nutrizionista che resterà attivo ancora per tutto il mese di giugno e laddove necessario potrebbe anche prolungarsi. Intanto presso il Luigi Curto continuano i lavori per rendere il presidio ospedaliero confacente alle norme di sicurezza anticontagio come per l'unità operativa di gastroenterologia dove resta chiusa una parte del reparto per consentire l'installazione delle cappe di aspirazione e la realizzazione di altri lavori per la separazione dei percorsi. Interventi che sarebbero stati individuati a seguito sopra luogo dei tecnici dell'ASL. Cambiamo argomento, andiamo a Sant'Arsenio dove resta sospeso il mercato settimanale, una situazione che non piace agli ambulanti e il gruppo di opposizione si cambia, è accanto all'oro. Dallo scorso 22 maggio la regione Campania ne ha autorizzato la ripresa per tutte le categorie merciologiche. Il 21 maggio scorso il sindaco Donato Pica aveva ordinato la prosecuzione della sospensione fino a nuovo provvedimento per la mancanza di spazi sufficienti nell'area mercatale di Piazza Europa, quindi per comprovate motivazioni di sicurezza di carattere igienico-sanitario. Sono trascorse tre settimane e altrettanti venerdì in cui il mercato di Sant'Arsenio non si è tenuto. Da qui le proteste degli ambulanti e del gruppo si cambia, ma ascoltiamo il consigliere Nicola Costa che ripercorre tutta la vicenda. Vediamo. Il cattivo tempo avrebbe comunque impedito agli ambulanti il regolare svolgersi del mercato settimanale. Mercato settimanale che però a Sant'Arsenio, unico paese nel comprensorio, benché dal 18 maggio per le direttive nazionali si sia riaperto in gran parte delle città, resta ancora chiuso. Gli ambulanti però erano giunti nel comune di Sant'Arsenio perché avevano avuto la promessa di poter misurare gli spazi da poter occupare in sicurezza e perché pacificamente rivendicavano il diritto di incontrare qualcuno delle istituzioni. Grazie anche alla nostra collaborazione tesa a trovare una soluzione, ci siamo riusciti ad incontrare il sindaco, il quale ha promesso che venerdì prossimo ci sarà finalmente questa agognata apertura. Quel che non resta ancora chiaro è come mai di questo ritardo, perché a nostro avviso le condizioni di sicurezza in una villa comunale abbastanza ampia e con un'affluenza che ancora non è quella dei tempi migliori si può mantenere tranquillamente la sicurezza. Non resta chiaro quindi il perché di questo ritardo, non ci è stato spiegato e speriamo che questo ritardo non si prolunghi. Resta comunque il nostro comune, un comune in cui dopo il 18 maggio per il terzo venerdì consecutivo gli esercenti non hanno la possibilità di riprendere il loro lavoro, dove abbiamo riaperto rispetto agli altri in ritardo il cimitero comunale, abbiamo riaperto il ritardo rispetto agli altri la villa comunale di cui sappiamo l'importanza per la nostra comunità e questo è un ritardo che è ancora più grave, visto che va a pesare nelle tasche di cittadini, di commercianti che a causa dell'emergenza coronavirus e del lockdown hanno dovuto subire la chiusura forzata per diversi mesi. Aspettiamo fiduciosi quindi il riavvio del mercato, la nuova ordinanza del sindaco speriamo al massimo entro lunedì perché un ulteriore ritardo sarebbe davvero inaccettabile, andrebbe a pesare ulteriormente sulle casse di ambulanti che devono comunque sostenere anche delle grosse spese di viaggio perché non tutti appartenenti al territorio e vedrebbero andare in fumo i loro propositi di ripresa a causa della negligenza e dei ritardi di un'amministrazione che per l'ennesima volta si dimostra poco attenta alle esigenze dei commercianti e dei suoi cittadini. Nuova ordinanza della Regione Campania con misure che prevedono la ripresa di diverse attività cinema all'aperto, feste di matrimonio, servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Vediamo i dettagli. Ieri una nuova ordinanza regionale che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Le nuove misure prevedono che fino al 31 luglio è consentita la ripresa delle attività di guide turistiche e rifugi montani, aree gioco per bambini, ludoteche e servizi per l'infanzia e l'adolescenza, compresi i campi estivi e oratori, i cinema e gli spettacoli all'aperto, i corsi di lingue, laboratori di formazione e altre attività presso i circoli culturali e ricreativi. È consentita l'attivazione delle piscine condominali. Fino al 31 giugno, invece, l'orario di chiusura degli esercizi commerciali è fissato limitatamente a fine settimana, quindi dal venerdì alla domenica, alle ore 2 del mattino. Rimane il divieto di vendita di alcolici con asporto oltre le ore 22. È fatta salva la possibilità di musica anche dal vivo negli esercizi di ristorazione, ma resta confermato il divieto di assembramenti e di balli all'aperto al chiuso. A partire dall'8 giugno e fino al 31 luglio è consentita la ripresa di feste di matrimonio e altre cerimonie e l'organizzazione di meeting e congressi. L'unità di crisi regionale elaborerà nel frattempo il protocollo con le misure per la riapertura in sicurezza delle sale da gioco, in tempo utile per la riapertura a partire dal 15 giugno, nonché per lo svolgimento di sagre e fiere. Nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale a Bonabitacolo sono state prese due decisioni che riguardano l'ambito comprensoriale del territorio, ovvero il canile comprensoriale di Sala Consilina e il Consorzio di Bacino Salerno 3. Vediamo i dettagli. Sia al canile comprensoriale e no allo scioglimento del Consorzio di Bacino Salerno 3 quanto deciso dal Consiglio Comunale di Bonabitacolo lo scorso 25 maggio. Per ciò che riguarda il primo punto è stata approvata la proposta operativa di funzionamento e suddivisione dei costi della comunità montana Vallo di Diano così come risulta dal nuovo piano economico per la gestione del canile comprensoriale di Sala Consilina. Firmata la convenzione con il gestore di Ano Project a gennaio scorso è arrivato l'accordo tanto atteso. Tutti e 15 comuni dissero sì all'intesa impegnandosi a contribuire al mantenimento della struttura partecipando con complessivi 74 mila euro suddivisi in base ad un nuovo criterio che tiene conto di popolazione, estensione e densità. La quota di Bonabitacolo è poco più di 3 mila euro. E Bonabitacolo non ritiene invece accoglibile la proposta di scioglimento del Consorzio di Bacino Salerno 3 esprimendo in qualità di socio fondatore forti preoccupazioni per la crisi finanziaria dell'ente che impedirebbe o comunque comprometterebbe la funzionalità degli impianti sportivi. Il Comune ritiene necessaria in questo momento così delicato per assumere ogni decisione di carattere straordinario come lo scioglimento o meno del Consorzio o anche per assicurare la regolare continuazione e gestione dei servizi consortili non obbligatori come quelli appunto attinenti agli impianti sportivi la modifica dello statuto per consentire limitatamente al settore sport a tutti gli enti consorziati, compresi quelli in mora con i versamenti consortili di poter esercitare il diritto di voto. Andiamo a Salerno, furto ai danni di un'anziana nella mattinata di ieri da parte di tre malviventi che si erano introdotti nell'abitazione dove era presente anche una donna ucraina. quest'ultima, badante dell'anziana, è stata tratta in arresto dai carabinieri quale complice? Vediamo. Furto ieri ai danni di un'anziana allettata a Salerno tra i soggetti ritenuti responsabili anche la badante che era stata ritrovata legata a casa della vittima una 84enne residente in via San Leonardo. L'episodio si è verificato nella mattinata di ieri quando tre malviventi con volto coperto si sono introdotti nell'abitazione mobilizzando la badante 58enne ucraina con delle fascette in plastica e impossessandosi del denaro presente nella casa per una somma di 500 euro in contanti. I tre malviventi, prima di darsi alla fuga, rovistavano ovunque alla ricerca di altri oggetti preziosi. A lanciare l'allarme il figlio della donna che ha immediatamente allertato i carabinieri della stazione di Mercatello. I militari dell'arma giunti sul posto avevano dato il via alle indagini ascoltando l'anziana ed altre fonti testimoniali tra cui anche quelle della donna ucraina a cui le hanno prelevato anche il telefonino per ulteriori accertamenti. Durante il sopralluogo non hanno rinvenuto segni di effrazione. Il racconto delle persone ascoltate, in primis l'anziana e la badante legato alla scena del crimine, ha rilevato numerose contraddizioni in particolare su quanto riferito dalla straniera facendo quindi insospettire i militari che ne hanno ipotizzato un possibile coinvolgimento. Determinante è stata l'escussione dell'anziana che forniva elementi utili e al tempo stesso discordanti da quanto riferito dalla sua badante. Ai carabinieri è quindi risultato evidente che quest'ultima cercava di nascondere importanti dettagli. Pertanto, nella tarda serata di ieri, si procedeva al fermo di iniziativa della Polizia Giudiziaria nei confronti della badante 58enne ucraina che veniva associata alla casa circondariale. Le attività di indagini proseguono per identificare i tre soggetti fuggiti. E ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi. Bentornati alla seconda parte del nostro Tg. Il Forum dei Giovani di Padula dà il via al progetto FDG Caffè con l'intento di confrontarsi su diverse tematiche. Il primo appuntamento è previsto per domani sul tema Covid e psiche. Vediamo. Un nuovo progetto parte domani su iniziativa del Forum dei Giovani di Padula si chiama FDG Caffè e nasce dalla volontà di confrontarsi su diverse tematiche che siano interessanti soprattutto per i giovani ma non solo. Domani alle 18 sui canali social del Forum dunque si terrà la prima puntata del nuovo format dal titolo Covid e psiche. Sarà una chiacchierata virtuale per indagare i temi della depressione infantile e giovanile soprattutto in un periodo difficile come quello attuale anche dal momento che è un argomento non sempre trattato con la dovuta attenzione. La puntata in programma domani vedrà Antonio Lezzi, membro del Forum, intervistare la psicologa Deborah Volpe che parlerà del fenomeno fornendo anche degli utili consigli per prevenirlo. Una chiacchierata virtuale per via delle restrizioni dovute al Covid-19. L'obiettivo del progetto è quello di incuriosire i ragazzi con il fine un po' ambizioso, affermano dal Forum dei Giovani, di sviluppare insieme un senso critico verso gli argomenti più disparati. La prima puntata dunque sarà incentrata sull'importanza della salute mentale che è stata messa in secondo piano rispetto alla salute fisica in questa situazione di distanziamento fisico che di fatto ha limitato le nostre libertà. Una circostanza che ha provocato ansia e stress sia per il presente che per il futuro. A supporto del progetto, i ragazzi del Forum hanno anche dato vita ad un fumetto, un ragazzo di nome Jim che rappresenta uno dei tanti giovani con sintomi legati alla depressione dopo il lockdown. Nel corso degli anni, fanno sapere dal Forum, gli episodi depressivi nei teenager sono aumentati dall'8,1% al 13,2%. Durante il periodo di lockdown la percentuale aumenta ancora, si stima intorno al 30%. Ecco dunque che diventa importante l'incontro di domani anche per fornire un sostegno emotivo ai giovani. Il Covid-19 blocca anche la vacanza del sorriso. Quest'anno infatti non ci saranno i soggiorni gratuiti per 200 bambini oncoematologici in vacanza nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Vediamo. A causa del Covid-19 quest'anno purtroppo non ci sarà alcuna vacanza del sorriso per bambini e ragazzi con patologie oncoematologiche che, assieme alle famiglie, sono ospitati ogni anno a titolo gratuito nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni da tutta Italia. L'annuncio è arrivato dalla pagina Facebook ufficiale della vacanza del sorriso, manifestazione di solidarietà dal carattere sociale e assistenziale che ogni anno prevede un calendario ricco di proposte con vacanze settimanali e campi ricreativi. Quest'anno si legge nel post circa 200 bambini oncoematologici con le loro famiglie non potranno beneficiare dei nostri soggiorni gratuiti, rinunciando ad un ricreativo e rilassante momento di vacanza a sostegno del loro duro percorso di cura. Scrivere 200 è un modo per indicare una grandezza, ma per noi, dietro ai numeri, ci sono persone, amici, problemi, speranze. Una notizia che viene data dagli organizzatori con profondo rammarico. Con il cuore affranto prosegue il post e uno stato d'animo triste dovuto alla sospensione per l'emergenza virus. Dopo 14 anni consecutivi, i soci dell'associazione Cilento Verde Blu, lo staff tecnico della vacanza del sorriso e presumibilmente tutti i sostenitori soffrono di una crisi di vuoto. Per tutti noi poter manifestare solidarietà e concreta vicinanza a questi bambini e alle loro famiglie è una missione, un dovere, un piacere. Gli organizzatori dunque esprimono profonda tristezza per l'impossibilità quest'anno di organizzare le settimane della vacanza del sorriso e per non poter tendere la mano e abbracciare i piccoli e i loro genitori, mostrando loro le bellezze del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il post si chiude comunque con un messaggio di speranza per il futuro, con l'auspicio che tanti e sempre più sostenitori possano aiutarci, scrivono, al fine di continuare la nostra opera solidale, sociale e assistenziale. Andiamo nel Cilento in visita a Capaccio Pestum, l'ambasciatrice israeliana Yael Uyubisten, che guidata dal direttore del Parco archeologico Gabriel Zuck Trigel, ha potuto ammirare i templi, il museo e la basilica paleocristiana, sempre accompagnata da assessori e consiglieri comunali. L'ambasciatrice di Israele all'ONU e alla FAO Yael Uyubisten, in visita ufficiale al Parco archeologico di Pestum Uvele. La diplomatica è stata accolta dal direttore Gabriel Zuck Trigel e da una delegazione dell'amministrazione comunale di Capaccio Pestum, rappresentata dalla vice sindaca Maria Antonietta Di Filippo, dal presidente del Consiglio Comunale Emanuele Sica, dall'assessore all'ambiente Ettore Bellelli, dall'assessore alla pubblica istruzione Maria Rosaria Piccariello, dal consigliere delegato al demanio Antonio Di Filippo. La Rubinstein ha potuto ammirare da vicino i maestosi templi e l'antico anfiteatro, oltre all'incredibile patrimonio di reperti custodito nel museo, tra cui la celebre tomba del tuffatore. Entusiasta è il diplomatico israeliano ricevuto in dono dall'amministrazione civica capaccese al termine della visita, una targa raffigurante il tuffatore ed alcuni libri sulla cultura pestana. Il parco archeologico di Pestumoveglia si conferma dunque, metodo culturale di richiamo anche per importanti personalità provenienti da ogni parte del mondo. La prima volta che vengo qua è molto affascinante vedere i templi, anche nei vari periodi, nella loro forma particolare. Siamo lieti di accogliere in questo momento gli amici, l'ambasciatrice che ci onora della sua visita. Abbiamo appena riaperto, vediamo l'affluenza anche del pubblico, molto bello questo fatto che vengono molti dal territorio, visitare i tempi, voti anche con l'abbonamento e quindi siamo in piena ripartenza. Ed era questo l'ultimo servizio di oggi, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.